Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, eccoci qua per venerdì 27 settembre alle ore 13.36 Allora, ragazzi, accendo con voi la dashboard, vediamo come sta andando Un M1, un Euro, ah, ancora sembrerebbe non esserci occasioni, vediamone Una, oh, Euro AUD, ok, ho per la miseria, qui c'è ragazzi, Euro AUD, attenzione, Euro AUD Euro AUD, attenzione, oggi siamo fortunati, speriamo di non perdere, 55%, ma a noi non ce ne frega niente perché lo facciamo a scopo di tattico l'operazione, non a solo scopo di lugro, poi il lugro è importante Però, ah, ma io vado, questa scende, Euro AUD, io vado, questa scende, signori, vado, vado, vado Sì, vado, vado, 100, M15, passo, ok, ok, ora beccavano lì, bravo, perfetto Allora, siamo entrati, signori, diciamo che le condizioni c'erano, diciamo che bisognava che bisognava prendere a volo questa occasione, e ci siamo riusciti Sono le fortune, quando ho aperto la dash, non c'erano tre incroci, perché in questo Euro AUD diciamo che siamo stati sfortunati, barra fortunati, perché stavano proprio, guarda, 80, stavano proprio al limite, ecco, della nostra dashboard L'M1 non è reincrociato, ma è in fase di discesa, ma non fa niente tanto, se reincrocia, possiamo applicare la martingala quindi, facciamo oggi un po' di spregiudicatezza e niente, e vediamo come andrà Allora, abbiamo aperto a 13,37 di venerdì 27 settembre e il prezzo di apertura è 1.61945 Euro AUD vedremo alla fine questo è il grafico si, la becchiamo questa, signori proprio che non ce ne sta però, dovete aspettare i 15 minuti nel frattempo, ho diverse cose da dirvi Allora, innanzitutto dalla settimana prossima ci sarà una novità abbiamo aggiunto un surplus alla dashboard quindi un prodotto che va ad arricchire la dashboard ed è il, diciamo, chiamiamolo così bot segnalatore o meglio, nello specifico, un canale telegram dove vengono dati dei messaggi che possono essere tramutati in segnali acustici guardate ragazzi, che avevo detto in segnali acustici quando avete i tre pallini che sono tutti allineati perché qualcuno ha chiesto questo prodotto ha chiesto una soluzione del genere noi ci siamo messi a studiare e l'abbiamo data questo prodotto, ovviamente, è riservato solo ai possessori della dashboard perché se tu hai sul, praticamente, sul telefonino un canale telegram che ti dice guarda, sono tutti gli stock rossi per dire, poi, sono cose che chi ha la dashboard può, ovviamente, utilizzare a chi no mi dispiace, non avrebbe senso da solo il prezzo che purtroppo c'è un prezzo è di euro 100 all'anno uguale alla dashboard perché più o meno i costi fissi e il lavoro che c'è dietro è più o meno lo stesso anzi, se vogliamo, qui è un po' più cioè, è più facile da fruire nel senso che non dovete installare niente però per chi ci lavora dietro è più difficile quindi 100 euro annuali per chi vorrà questa nuova iniziativa senza che iniziamo con eh, ma quasi pagato ragazzi, c'hanno dei costi l'avete chiesta voi ma chi non è interessato può non farla perché non è che sia obbligati o che non si può fare trading senza queste cose anzi, l'ho fatto per anni quindi detto ciò facciamo il solito ricapitoliamo per i neofiti chi mi conosce oggi sa la mia attività di trading viene fatta da più di 6 anni utilizzando la strategia Revolution tale strategia solo l'ebook ha un costo di euro 130 strategia Revolution più lezione euro 150 strategia Revolution più lezione più vincere in 60 secondi euro 200 il videocorso completo per neofiti euro 600 il videocorso per possessore delle strategie prima di marzo 2019 cioè questo pacchetto qua che comprende 13 video lezioni più tutte le strategie che si parte dall'analisi tecnica sino all'approfondimento delle strategie applicando appunto i congetti di analisi tecniche imparati per chi non ha niente non mi conosce il prezzo è di euro 600 per chi prima di marzo 2019 cioè prima dell'uscita di questo corso già mi possedeva le strategie ovviamente c'è un prezzo di euro 300 perché non sapeva che c'era il corso e ha preso solo le strategie che era tutto quello che c'era fino a quel momento la dashboard invece che è questa bella lavagnetta che ci va a indicare le condizioni della Revolution e ci dà il suggerimento vatti a vedere là noi poi ci apriamo il grafico della Revolution sono qui e ci divertiamo signori ci divertiamo vediamolo grazie eh raga guardate guardatela 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 signori quanto è bella di quanti pip mancano 10 minuti però quando si accumula un vandaggio del genere veramente si sorride beh 55 dollari un po' pochino però a me non è 57 a me non mi interessa perché l'ho fatta in primis per uno scopo didattico dimostrativo allora questo video verrà più breve quindi chi inizia a contestare eh ma fai solo video mi mostri l'operazione raga è uscita a prima cioè a prima chitto capita accendi il computer e esce capita ma soprattutto ci sono tantissimi di quei video sul canale di durate diverse per cui aggrapparsi a un video è inutile e soprattutto vorrei segnalarvi che per chi dice Giovanni non sbaglia mai nello scorso video abbiamo sbagliato un'operazione non crolla in mondo sono umano siamo umani e facciamo le cose con il cuore e con la sincerità perfetto le cose che devo dire ve le ho dette sia sui prezzi ora naturalmente apriamo come sempre il nostro disclaimer se qualcuno può vuole fare come diciamo da noi la testa gloriosa e fare il professore dire no io ti denuncio perché io qua sono dei video come vi ho detto dimostrativi su operazioni passate non future e non in contemporanea ma soprattutto poi sapete che ci sono dei rischi e ve ne ha collato soprattutto se voi poi li fate dai video dove non vengono spiegate le strategie sì magari vi mostro il famoso grafico come impostato però se uno riesce a capire tutto da qui e poi che ci sono cose che non vengono mostrate ma che non vengono nemmeno spiegate quindi non capisco poi qualcuno perde e può venirsi a lamentare no cari ragazzi nel video c'è il disclaimer facile ragazzi dai 7 e 20 bella bella questa abbiamo iniziato bene oggi dai si chiude la settimana diciamo ora vi metterò a ascoltare un po' di musica e vediamo che ne esce però come vi dico sempre raga anche se ne avete fatta una due che non è bene e la cifra già è soddisfacente potete anche fermarmi io non mi fermerò perché come vi ho detto ne faccio due barra tre tutti i giorni ora prima di mangiare forse per voi è post pranzo ma io ancora devo andare ho già messo questa carne a cuocere e poi vediamo invece come andrà giù ragazzi perfetta questa operazione questa è al bacio perché ti ho beccato perfettamente a parte il trend che era senza dubbio ribassista ma siamo proprio in una piena inversione perché se guardate così no inversione comunque stava salendo nell'ultima ore ha fatto questo giochetto però ci sono questi 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 movimenti che chi è bravo li sa prendere al ribasso e noi è quello che noi stiamo facendo cioè all'interno di un trend generale te lo dico troppo dai ragazzi spieghiamo se no poi qualche genio come sempre non è che mi copre la strategia perché non è che sono 110 pagine quindi voglio dire se uno riesce poi a a capire così 10 pagine da un da un'immagine da un video va gli do la mano però poi molti che fanno investono e perdono e danno la colpa ai miei video e questo con i miei video non succederà mai ve lo dico sempre e non fate nemmeno con quelli degli altri perché nessuno vi mostra nulla per niente cioè prima facevano dei video in cui sono cascato anche io artigianali al massimo in cui ti davano delle finte strategie basta che versavi al loro link e perdevi soldi pensate che che cervellone oggi invece è un po' più complesso comunque non lo fanno più tanto per cui non vi mostrano proprio nulla delle loro strategie ma chi è che ve la mostra se c'era una strategia raga non è facile è inutile che stiamo a dire perfetto dai forza 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 5 minuti gli ultimi 5 10 minuti sono stati veramente un piacere per gli occhi questa operazione è stata un piacere e comunque ragazzi vi volevo dire che comunque questa operazione dovesse andare ricordiamoci che noi stiamo prendendo 55 dollari 57 mettiamo che sono all'incirca credo una cinquantina di euro e buttali via ragazzi buttali via 50 euro penso che la giornata forse che paga un che paga qualcuno non lo so ma insomma ci sono parecchie come dire ci sono parecchi mestieri che anche pesanti che per 50 euro al giorno devi far parecchio quindi voglio dire siamo fortunati noi dal computer a poter far questo in più devo iniziare a prelevare questa settimana qualcosina voglio lasciare tutti questi soldi come sempre raga conto live live esperto verificato tutto a posto sta facendo trading sul conto reale questo è un di mi indirizzi p qua potete vedere tutto ragazzi il demo è un altro conto eccolo qua punto come diceva Troisi San Ginnà Innesi parla proprio cioè non dovevi proprio parlare qua ho solo mostrato carta canta che una volta facevo mi sembra andai a scrivere tutto un video di un trader che faceva delle operazioni in demo e gli dissi ma guarda non mi sembra corretto forse ve l'ho detto ve lo dirò finora ecco lì ma fatti a vedere i video tu noi ne facciamo tanti in reale solo per provare eh provalo con i soldi se sei bravo qua purtroppo raga molte persone piace fare come si dice da noi non so se dice anche da voi scrivetelo nei commenti fare diciamo gli omosessuali con il di dietro degli altri scusate il termine per chi lo è ma io non voglio discriminare nessuno anzi io sono a favore delle matrimoni adozioni coppie gay tutto gay sono a favore quindi sono l'ultima persona che discrimina però è una battuta che si fa nel gergo e per dire tutti siamo capaci a parlare però poi dopo dobbiamo mettere in gioco il nostro i nostri soldi questo per me è fondamentale io qua non potrei stare a dirvi io investo così io investo con l'altro DGX DGY se non investissi io in prima persona soldi reali perché poi come si dice il leader non è quello che dice cose di fare ma è quello che la fa con te io vi aiuto vi introduco questo settore ma poi faccio le cose con voi rischio con voi sono il primo che rischia qui in tutti i video ormai sono anni cioè non è che sono è poco il tempo sono anni che stiamo qui a fare video sempre con soldi reali qualche periodo c'era qualcuno che ne dubitavo qualcuno che mi ha attaccato poi mi ha anche chiesto scusi siamo grandi amici e e devo dire sono stato uno dei pochi che dopo ha detto beh non c'è problema io sono il reale lo mostro il conto non mi interessa davvero davvero uno dei pochi raga l'operazione è presa queste sono quelle che come dico io sono un piacere per gli occhi guardate qua che bella che bella senza che ti fa tribolare ti stai tranquillo ti prendi una bella boccata d'aria perfetto benissimo 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 magari qualcuno di voi non sarà non piaceva investire col 57% di ritorno rispetto alla vostra opinione ok perché 57% non è sto granché io come vi ho promesso lo faccio anche al 10% perché io ho uno scopo nei video che è quello didattico barra dimostrativo barra divulgativo non è quello di fare i soldi che poi quando devo investire so come fare ma anche per fatti miei e poi magari quando sono solo faccio trading diversamente non c'è problema 2-1 è andata signori grande forza bella oggi molto bella oggi mi è piaciuta guadagno le 60% allora signori abbiamo chiuso a 1.6189 eccolo qua 1.1689 abbiamo aperto quello che vi ho detto prima andate a pescare voi e controllate tutto ok allora signori anche questa settimana ci siamo visti grazie per l'attenzione mi raccomando per qualsiasi cosa vi sono a disposizione avete il mio whatsapp avete il mio cellulare avete le mie email avete tutto qui non si scappa nulla non si molla nulla signori buon weekend e buona giornata